Alchilava però, perché aveva la mamma già l'anno e c'era circa e non potevano Ah, si fanno a un altro lato. E si fanno a un altro lato. E ora questo del Tio Monaco? Il nostro, c'è uno, un mio amico, viene di tanto in tanto un mio amico e io l'ho dato così. Ecco, ecco, ecco. E io vi come un cacumpe nate. Però tutto la casa è di terra. La casa è di terra, è già da l'iglesia, già da la piatta. Però il terremoto è tutto. Qu'è la casa di Tomas? Tomas Agiloro. Ah, questa è? La nuova, nuova. La nuova, sì. La casa di terra è di terra, è di terra. Mi ha dato la guerra, ti ho detto. Ma no ma è dovuta il terremoto? Sì, grazie a la restata di избito di tui pastori. A ci sono chi si era dentro. In la mañetta del... L'amico? Ci si sava altro o no. Esa, aca vivia, tu momma? Si, e Rosa e i伙 dovetti di terra? È dove vive la sciaveta. Allà dove vive la sciaveta. Da dove vive la sciaveta. Nelanista? Certo. È l'ho, è l'ho qui è la sola che è. questa è la unica vieja te saco una in questa vieja, Carlo anche se una in questa vieja la saco con Michele